E' di questo che parleremo nelle tre serate che terrò nei prossimi giorni e parleremo di noi prima di tutti, perché prima vengo io, poi vengono gli altri, ma non per presunzione, ma perché se io sono arrabbiato, sono frustrato, sono incavolato, le relazioni con gli altri non possono funzionare, quindi il primo vero grande lavoro che dobbiamo fare è su noi stessi, per conoscere noi stessi e per capire come e da dove partire, perché c'è una parte di noi che è quello che sei, che è molto più importante di quello che sai. E qui vi chiedo di aprire la mente, di mettervi in gioco, perché dal punto di vista della nostra cultura abbiamo sempre pensato che più sai, più sei bravo. Bene, oggi vi dico che siete già bravi. Il tema vero, la sfida è maieutica, come direbbe il coaching, che è tirare fuori il meglio di noi stessi ogni giorno, perché ogni mattina io quando mi alzo, ognuno di noi quando va a lavorare va per le sue sfide, la vera cosa che dobbiamo cercare è di essere tutto il bravo che già siamo, un po' come un giocatore quando va in campo. La sfida è di prestazione, essere il meglio di noi stessi. E questa è una parte sulla quale non siamo preparati e ne parleremo insieme con voi, perché esistono dei fattori che sono determinanti, che sono gli obiettivi, che sono l'esperienza, il passato, l'allenamento, che è la capacità di essere presenti, di essere concentrati. Ma lo vedremo da un punto di vista a me molto caro, che è quello dell'anima. Infatti lo vedremo su una piattaforma della scuola, Initiation School, che ho contribuito a formare, dove io sono sole facilitator, che vuol dire proprio allenatore dell'animo umano, che poi nello sport per esempio è lo spirito di squadra, quello che si cerca, ma anche in un imprenditore, in una persona. La cosa più importante che noi vediamo è lo spirito di quella persona, che proprio la sua energia, la sua motivazione, il suo coraggio, la sua resilienza nei momenti difficili, è lì che si vede la qualità di una persona ed è una qualità che viene dentro, che viene dall'animo umano, che noi abbiamo già dal primo giorno della nostra nascita, anzi direi dal concepimento, e ci sono delle arti, come io ho studiato per esempio la numerologia, che dalla data di nascita, dagli astri, dai colori, si possono vedere tante cose, ne parleremo in queste tre serate assieme, un'oretta e mezza ogni sera, per essere veramente leader di noi stessi, per essere liberi e padroni della nostra vita, per quanto possibile, al meglio di noi stessi, come diciamo sempre. Ciao!